Ciao, sono Francesco Moneti e oggi voglio parlarvi del DIN-G P48, che è un microfono a contatto attivo, bilanciato e di classe A, che vi permette di dare fuori i migliori suoni dal vostro strumento acustico. L'oggetto vi arriva in questa elegante confezione, poi la si apre, così, e qui trovate il microfono correlativo cavo, col quale andrete poi all'impianto, all'ambificatore o alla DI, al DI box, e poi la pasta con la quale attacchierete il microfono allo strumento, alla cassa dello strumento. Qui funziona così, si ne prende un pezzettino di questa pasta, poi si fa una sorta di piccolo serpente, vi faccio vedere un po' così, poi si prende appunto il microfono e si mette la pasta intorno, in questo modo, la si schiaccia un po', e poi è pronto per essere messo nella cassa dello strumento, in questo caso abbiamo un bozuki, io lo metto più o meno fino a questa altezza, lo attacchiamo in questo modo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.